Giochiamo sabato in casa di nuovo contro il Carpi Prevedo una partita dura Comunque già in casa loro ci hanno messo in leggera difficoltà Arginando molto bene il nostro gioco veloce I nostri attacchi come era previsto Ma partiamo con un più tre e una vittoria E questo è fondamentale per il nostro proseguio verso lo Scudetto Comunque partiamo leggermente a questo punto avvantaggiati Perché abbiamo una vittoria Abbiamo anche tre gol di scarto Su questa vittoria ed è una cosa buona, ottima secondo me Adesso però bisogna vincere sul campo La squadra di Illy ce l'ha preparata molto bene Già la partita è andata giù da loro Mettendoci in leggera difficoltà Cercando di creare e di sfruttare le nostre debolezze E di limitarci nei nostri giochi rapidi Però anche noi adesso stiamo riprendendo le nostre contro di misure E soprattutto giochiamo in casa E questo sarà sicuramente un motivo ancora per cercare di fare meglio per noi Per noi questa è una partita che dobbiamo cercare di vincere di quattro gol E quindi sì, andiamo lì non per regalarla Per giocarla fino in fondo Siamo comunque contenti della prestazione che abbiamo avuto sabato E vogliamo partire da quella partita lì per affrontare il meglio sabato questo Dobbiamo fare una gara di forza, di volontà Di gruppo, di squadra Perché appunto dobbiamo giocare per quelli che non ci sono E cerchiamo di giocare anche per loro Giocare anche per gli altri